Questa è una foto che lo vediamo dalle ombre, è stata scattata la mattina, quindi è martedì mattina, vedete che le ombre sono da questa parte, il discorso che abbiamo fatto all'inizio. Non è martedì, lunedì, non è martedì, martedì mattina, martedì mattina, il giorno dopo che l'era il coperro, il giorno dopo che l'era il coperro, la zona venne piantonata tutta la notte dai carabinieri e sottoposta al sequestro, ovviamente come scena del crimine. La scoperta dei cadaveri avvenne lunedì alle 14.30, indicativamente, ci sono i verbali. I cadavri vengono rimossi la sera che c'è buio, ci sono le fotografie che si vedono che portano via i cadavri col buio, la mattina successiva, che è quella fotografia che vi sto mostrando ed è la mattina perché le ombre vanno nel senso che ci siamo spiegati all'inizio del nostro discorso, quindi le ombre vanno col sole che è ancora a est, vi ricordate con la mappa che vi ho fatto vedere, cosa succede? Intervengono sul posto con dei metal detector dei militari. La cosa interessante poi, vi raggiungo solo come informazione, quando qualcuno dice che sul piazzola non andò nessuno che aveva gli anfibi, questi montano tutti degli anfibi. Martedì mattina, martedì mattina, il giorno dopo dell'anno. Ci sono delle altre immagini, questi sono carabinieri della territoriale, questi invece probabilmente sono dei reparti tecnici o sono degli sminatori dell'esercito? Ti puoi inquadrare gli anfibi per favore? Avvicinati proprio tanto? Ma ce ne sono altre che si vedono meglio, questo è un metal detector che si usa per la ricerca delle mine, si usava per la ricerca delle mine, però quello che mi interessava dirvi è che ci sono delle fotografie in cui si vede anche gente dei carabinieri, indivisa da carabinieri, che hanno degli stivali alti, che avevano probabilmente la suola di vibra. Questa è praticamente la macchia di sangue lasciata dal corpo del ragazzo sulla piazzola, dove si è dissanguato, poi viene preso per i piedi e trascinato qua dentro. Qua si vedono gli anfibi? Qua si vedono gli anfibi. Martedì mattina, martedì mattina, il giorno dopo del ragazzo. E l'impronta viene trovata proprio lì. Scusa, hai detto tra di noi, avvicina un attimo quella foto sui anfibi. Mi sembrano pure i piedi abbastanza grande, cioè... Sì, diciamo che un 44 potrebbe esserlo. Io per cercare di capire un po' questa situazione, nel senso che giustamente come De Fazio faceva notare, dice non si può dire che è del mostro. Sono riuscito a rintracciare un carabiniere che intervenne per primo sulla scena del crimine. Quindi il primo ad intervenire fu lodato, malicea lodato, chiamato da Santucci, che era colui che rinvenne il cadavere del povero ragazzo. Quindi intervenne prima la caserma di San Casciampo, di che loro chiamavano subito Borgogni Santi, che era la caserma di Firenze, e sopraggiunsero tre carabinieri, tra i quali c'era un... il cognome lo posso fare, si chiama Rimicci, che io ho contattato, adesso è passato un paio di anni a Firenze, però fu uno dei primi a arrivare. Quindi al momento in cui arrivano questi tre carabinieri, lui nota questa impronta, mi dice che ha notato, si ricorda di questa impronta di Scarpone, anfibio, e ancora non erano arrivati né i militari né gli altri carabinieri. E' impronta qui, secondo la testimonianza di questo carabiniere che intervenne, era stata fatta antecedentemente all'arrivo di tutta l'arma dei carabinieri, tutti i militari e la polizia che intervenne successivamente. Quindi è ragionevole pensare, secondo me, che quell'impronta lì dell'anfibio taglia 44, stessa che ritroviamo a Calenzano poi, era già lì prima, quindi è molto difficile sia di un carabiniere che è intervenuto, perché quando arrivano i primi carabinieri questa impronta è già lì. Gianluca, ah interessante, li scoperti sono stato il giorno dopo la scoperta dei catari dei francesi. Ricordo i carabinieri, anche in America, anfibio, unità cinofono nel furgone, sì sì no certo, si vedono anche le foto Gianluca dei militari con gli anfibio, però questa che è indicata, la foto dove c'è Mauri che indica è antecedente a quando sono arrivati militari, ma è detto può essere anche di un militare, ma è il medico legale che la indica.